In via Bicchieraia si svolge anche quest'anno la manifestazione I Mestieri dell'Arte. Ci sono due spazi che coinvolgono entrambe le associazioni artigiane. Qui siamo nello spazio di Confartigianato e osserviamo Alano Maffucci, maestro orafo, che sta eseguendo delle incisioni particolari. Qual è il valore di questa iniziativa per voi? Per Confartigianato ci sono diverse eccellenze, come possiamo vedere, e quindi per dimostrare che Arezzo è viva, perché ci sono dei maestri artigiani, l'orafo, con il vetro, con la ceramica, con la pietra. E quindi per avere questi spazi espositivi ringraziamo il Comune e la Fondazione Arezzo in Tour, perché ci ha dato questi locali e effettivamente in questi fine settimana sono venute diverse persone molto interessate. E quel pubblico ha risposto? Sì, sono venute da tutta Italia, sono veramente rimaste impressionate, perché ancora ci sono i mestieri dell'arte, quindi questi maestri artigiani che fanno ancora queste opere così belle. I mestieri dell'arte vedono coinvolta anche CNA. Marco Conti, che cosa ha voluto rappresentare in questo spazio? Il nostro spazio è una rappresentazione del nostro lavoro. Si viene dalle botteghe del 1700, abbiamo dei valori e cerchiamo di farli vedere ai nostri concittadini e tutti i turismi che stanno affollando in questo momento la città. È una cosa che secondo me è molto importante, la sinergia che abbiamo con il Comune. Cerchiamo di creare una strada dei mestieri, cerchiamo di far vedere le nostre lavorazioni, abbiamo degli artisti che sono i nostri artigiani e cerchiamo di fare delle cose bellissime e farle vedere. Può essere un volano per la nostra economia? Senz'altro sì, perché oggi il turismo cerca molto il turismo esperienziale e noi abbiamo tutte le capacità e le competenze tecniche per poter fare ciò.